Decisioni, relazioni, sicurezza, potere, stili di vita, modelli di pensiero. Il digitale cambia il nostro mondo a grande velocità. Ma quali sono le problematiche tra società e digitale? Che mezzi offre il mondo digitale alla società? Che società dobbiamo immaginare nel nostro futuro? Ciao a tutti, sono Pietro Barbiero, studente del Politecnico di Torino e nel blog Società e Digitale cercherò di rispondere almeno in parte a queste domande.